Il cibo non è proprietà privata ma provvidenza da condividere. Così il Papa all'udienza generale analizzando la seconda parte del Padre Nostro, quella in cui presentiamo a Dio le nostre necessità pronunciando una parola che profuma di quotidiano, pane. E Gesù ha spiegato che ci insegna a chiedere al Padre il pane quotidiano per l'intera fraternità umana. Pensiamo ai bambini che sono in paesi in guerra, i bambini affamati dello Yemen, i bambini affamati nella Siria, i bambini affamati in tanti paesi dove non c'è il pane nel Sud Sudan. Pensiamo a questi bambini e pensando a loro diciamo insieme, a voce alta, la preghiera. Padre, dacci ordini il pane quotidiano. Al termine il Papa ha consegnato un'onorificenza pontificia a Suor Maria Concetta Esu, 85 anni originaria della Sardegna, missionaria in Africa da quasi 60 anni. Salutando la religiosa che nelle sue vita ha fatto nascere migliaia di bambini, ha ringraziato tutti i missionari e le missionarie che pur non facendo notizie sui giornali ha detto, seminano la parola di Dio con la loro testimonianza. Il cardenal Umes, che è l'incaricato dell'episcopato brasiliano di tutta l'Amazonia, lui va spesso a visitare le città e i villaggi dell'Amazonia e ogni volta che arriva lì, me lo ha raccontato lui stesso, va al cimitero e visita le tombe dei missionari, tanti morti giovani per le malattie contro le quali non hanno di lanti corpi. E lui mi ha detto, tutti coloro meritano di essere canonizzati, perché hanno bruciato la vita nel servizio.